Questa della mamma, un pensiero speciale a tutte le mamme, le figlie, le nonne, le nipoti, le donne di questa pagina del mondo, Matteo Salvini rivolge. Comunque il Morisi ha cannato la programmazione del Twitter, era il 10 maggio, ci ha fatto quel Twitter il 10 maggio, è domenica 12, manco questo, tanto vale fare già gli auguri di Natale a questo punto, già che ci stai, gli fai quando ti pare. Auguri alla mia mamma, scrive Maria Elena Naboschi, a tutte le mamme. Vi ricordate quando da piccoli dopo una caduta ci aiutavano a rialzarci e con un loro bacio guariva tutto. Per noi avevano poteri magici, in fondo un po' è vero, le mamme sono sempre delle supereroine. Più o meno Marco dice, io ricordo anche il potere magico di farti avvicinare con... Vi è qua, vi è qua, vi è qua che non ti faccio niente, è sempre un potere magico. È un po' quello del mangiare le caramelle mu. Se cadevo mi madre mi dava pure resto, altro che... Qualcuno va senza neanche scrivere direttamente, auguri mamma, questo è DJ Delta che è stato tra l'altro nostro ospite. Andiamo avanti, festa della mamma, c'è lei, fratelli d'Italia, in piazza a Montecitorio per difendere la maternità, il 26 maggio, eccetera, eccetera. Dice difende la maternità da chi? Cioè l'attacca la maternità, stiamo tutti qua, chi è che sta attaccando? Dall'invasione delle zucchine di mare che notoriamente provocano infertilità. Non aggiungo altro, qualcuno fa questo accostamento, vediamo, ecco qua. E effettivamente ci siamo, siamo lì, camizona. E questo è un scambio Whatsapp condiviso da Valerio Massandrea, buona festa della mamma bestia, risponde Valerio ti stavo per scrivere, buona festa della mamma, sono sempre più veloce, eh? Eh sì, è niente, questa è una conversazione intima condivisa. E poi di intimo e condiviso c'è questo video che ci è arrivato da Maria Mediatore, la mamma di Bologna, con i figli Dario, di 7 anni, Laria, di 6, Fabio, di 4, Chiara, di 2 e Mattia, di un mese. Questo video, ve lo dico, è inquietante, però siamo stati autorizzati. La voce sta andando via adesso, secca, in questo momento, che ora è? Mezzanotte e 21, si è staccata mezza corda vocale, ma andiamo. Buonasera ragazzi. Buonasera mamma. Come va? Alla stanza è grandissima. Che facciamo stasera? Guardiamo che fa canta live. Che va a fare live? Pace interiore, pace interiore. Che dire? Virgo. Famiglia campione, se prendi sta famiglia, hai presi tutti. Ok, andiamo avanti, ringraziamo ancora. Grazie. Grazie.